Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a Miglior Cordes. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Gigaset. Il telefono Cordless Gigaset è perfetto per le famiglie impegnate. Con la tastiera retroilluminata, il display grafico ad alto contrasto e la rubrica illuminata, è facile da vedere e da usare anche in condizioni di scarsa luminosità. La tastiera ergonomica rende la composizione un gioco da ragazzi, mentre la lunga durata della batteria ti permette di rimanere connesso anche quando non c'è una presa di corrente da trovare. Inoltre, con la funzionalità a vivavoce e la qualità HSP, è possibile godere di conversazioni chiare con amici e familiari. Gigaset è il modo perfetto per rimanere connessi senza sacrificare lo stile o la funzionalità. Stai cercando un telefono cordless che sia elegante e funzionale? Non cercate oltre il Gigaset As 475. Questo telefono di alta qualità ha una tastiera retroilluminata, rubrica illuminata e display grafico. Numero 4, Gigaset As 690. Il telefono cordless Gigaset è un prodotto di alta qualità con vivavoce e display grafico illuminato. Ha fino a 14 ore di conversazione e 180 ore di durata della batteria. La rubrica può memorizzare fino a 100 nomi e numeri e la tastiera ergonomica è fatta di materiale di alta qualità. La funzione di blocco delle chiamate può bloccare fino a 32 numeri. Il telefono ha anche una funzione vivavoce e una presa per le cuffie. La portata del Gigaset è fino a 300 metri e può essere collegato a due telefoni contemporaneamente. La qualità del suono è eccellente e il telefono è facile da usare. Gigaset è una scelta eccellente per chi cerca un telefono cordless di alta qualità. Il cordless Gigaset è un prodotto top di gamma che offre molte caratteristiche evaute. 3 gradi posto c'è Alcatel 530F. Il telefono Alcatel DECT Colored Grey White ha un design elegante e moderno con tutte le tue caratteristiche preferite. Con una funzionalità extra di segreteria telefonica, questo telefono è perfetto per condividere le comunicazioni o continuare a lavorare liberamente. La segreteria telefonica ha 14 minuti di tempo di registrazione e tasti di accesso sulla base in modo da poter sempre tenere traccia dei nuovi messaggi. L'ampio display retroilluminato rende facile vedere chi sta chiamando e la funzione VIP ti permette di riconoscere i tuoi corrispondenti. Il portatile ha anche una rubrica di 50 nomi e numeri. Questo telefono è perfetto per le famiglie occupate o le persone che hanno bisogno di tenersi in contatto con il lavoro mentre sono in contatto. Numero 2, Gigaset CL390. Il Gigaset è un telefono cordless dal design vintage con un tocco originale. Ha un grande display illuminato in bianco e nero. La cornetta è progettata per avere l'aspetto di un telefono classico. La rubrica può memorizzare fino a 150 nomi e numeri, comprese tre voci speciali per il blocco delle chiamate anonime, la lista nera e la funzione non disturbare. Il offre un'eccellente qualità del suono con funzionamento a mani libere grazie alla funzione viva voce a banda larga. Inoltre ci sono molte funzioni pratiche come il controllo del volume dalla cornetta o sul base. Modalità eco per il risparmio energetico. Un blocco della tastiera e un indicatore di feedback acustico. Il telefono ha anche una base di ricarica. Fine. Il numero 1 della nostra lista. LG. La LG Smart TV LED 4K Ultra HD50 con processore quad core 4K è un'ottima scelta per chi cerca un televisore di alta qualità. Questo televisore ha una serie di caratteristiche che lo rendono una scelta eccellente, tra cui lo standard DVB-UT2 e VC Main 10 compatibile con il prossimo cambiamento dello standard digitale terrestre, che fornirà immagini 4K reali ancora più realistiche. Il processore regola automaticamente l'immagine, disabilitando l'effetto motion smoothing per un effetto full motion. Il televisore LG UHD dispone anche di Team QI che ti permette di controllare i dispositivi compatibili con la tua voce. Questo televisore include anche l'interfaccia WebOS 4.0 Smart TV per un facile streaming di contenuti da una varietà di fonti. E sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.